Il punto dall'adduttore al ginocchio diventava viola dobbà funebre, gelate, le cose pazzesche che abbiamo fatto da piccolo che le mamme ci cantavano quelle canzoncine carine, simpatiche, no? C'era una casa molto carina, senza soffitto e senza cucina io volevo essere conosciuto l'architetto di questa cazza casa sono 58 anni, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento cazzo era la casa di Yuri Kekir, c'è camminato di parallelo non si poteva fare la pipì, cazzo, con le prostate in giardino, via perché? Perché il vasino non c'era lì? E cazzo metti un cesso! Ma era bella, bella davvero, cazzo che era bella Dove? In via dei matti numero zero che l'ha messo sul tomtom e è uscito ma vai a cagare, perra! Ma ha preso in giro il tomtom!